Bianco è l'odore del tempo che va Sara Marinelli, i Baglioni, belli e terribili e soprattutto quello che Novilunio racconta Federico Baglioni detto Grifonetto altrettanto bello quanto crudele e feroce Grifonetto Sì, bellissimo perché lo cita anche Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray però proprio anche su questo abbiamo lavorato su questa figura molto piena di sé quindi molto, come dire, narciso però quando si arrabbia è terribile e quindi è in preda proprio a una furia rabbiosa e vendicativa Novilunio si apre con una natività diciamo e si chiude con una deposizione riferimento a quello della Pala Baglioni di Raffaello Sì, abbiamo fatto una bella visita alla Galleria Borghese perché tutto deve coincidere alla fine tutto deve tornare, quindi abbiamo fatto molto riferimento ai colori della Pala e abbiamo fatto riferimento proprio anche ai visi alle espressioni dei personaggi Sì, è un'altra cosa Grazie a tutti